Per soltanto questo esercizio ancorate l'elastico a una dreta superiore a quella della vostra spagna. Afferratelo con entrambe le mani e ponetevi in posizione di affondo. La gamma interiore spingerà verso l'esterno per aiutare il core a mantenere la sua attivazione. Con entrambe le mani dobbiamo fare quattro movimenti. Una distensione del braccio sinistro e una distensione del braccio destra. Un ritorno, quindi una flessione del braccio destra e una flessione del braccio sinistro. In cui seguirà una rotazione solo delle parti alta del corpo, quindi le spalle nelle parti anteriore, verso sinistra.